Lunedì 2 agosto 2021 siamo a Tavullia, inaugurazione dello Yellow Park grazie all'intervento del Comune di Tavullia in collaborazione con il Valentino Rossi Fan Club e l'Associazione Terre di Motori e Piloti. Siamo con Francesca Paolucci il sindaco di Tavullia, ieri l'Italia conquista due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo con una giornata che passa alla storia, oggi 2 agosto passa alla storia per Tavullia l'inaugurazione dello Yellow Park. Bello, mi piace questo binomio, allora intanto grandissimi complimenti a Iacos e Gianmarco che è marchigiano, quindi tanto onore per noi ancora. Qua siamo nella terra di un altro campione, grande campione del mondo, Tavullia. Oggi inauguriamo questo parco, un parco comunale dedicato a tutti i bambini del mondo. Questa è la dedica che ci siamo sentiti di fare perché è un parco inclusivo dove tutti i bambini anche con disabilità potranno entrare e utilizzare i giochi che verranno installati. Questa idea è nata tanto per riqualificare un'area che era già verde con dei giochi per bambini, un'area non bellissima. In questi anni nel nostro territorio comunale abbiamo cercato di riqualificare diverse aree e portarle all'accessibilità e alla vivibilità quotidiana, in particolare di bambini e famiglie. In questo caso la sinergia con il fan club di Valentino Rossi e l'associazione Terra Piloti e Motori ci ha dato lo spunto per realizzarlo a tema. Quindi è un parco molto colorato, molto gioioso e per noi diventa un po' il simbolo della riapertura, della ripartenza in questi anni, dove anche i bambini hanno sofferto di una mancanza di socialità importante. Quindi un avvenimento sicuramente che speriamo venga apprezzato da tutti, sia dai nostri cittadini sia da coloro che vorranno venirci a trovare. Ecco, il parco sarà sempre aperto, sindaca, e soprattutto sarà un elemento prezioso di attrattiva turistica, perché ormai Tavulli è più conosciuta di Pesano nel mondo. Allora, sicuramente è sempre aperto, non ha spazi chiusi, quindi è completamente aperto, molto ombreggiato, quindi anche si sta bene, diciamo. Ci sono molte piante, è uno spazio molto verde ed è anche un punto dove chi viene per motivi turistici a visitarci troverà accoglienza, quindi è sicuramente uno spazio dedicato non solo a chi ci abita, ma anche a chi vorrà venirci a trovare.